Europea Ladies Team Championship, siamo qui a Ismolas con la capitana della Spagna, Lucia Corteso. Oggi una grandissima vittoria al termine di un match molto combattuto con l'Italia. Sì, molto combattivo, molto combattivo Italia, molto contento, siamo molto contenti, abbiamo giocato molto bene. Le ragazze hanno luchato molto, tanto l'Italia come l'Italia, è fenomenale. Ha stato un buon partito, un buon match. Un grande inizio, avete vinto entrambi gli incontri di doppio, poi avete avuto qualche difficoltà nei singoli, ne avete persi tre, però poi ci sono stati negli ultimi due match una importante reazione e alla fine è arrivata una vittoria che appunto vi porterà in finale contro la Svezia. Sì, ha stato molto importante, le due ultime partite di Elena e Anna, abbiamo perduto tre prima e poi le ultime hanno stato molto buone. Elena va ganando di quattro e dopo di tre, dopo di due fino al 17 e Anna di tre fino al 16, quindi è perfetto. La Svezia in questo torneo ha dimostrato tutto il suo valore, è campionessa d'Europa in carica, ha già vinto lo scorso anno in Austria, è la squadra da battere. Voi però oggi avete dimostrato di avere un'equipo formidabile. Buonissimo, buonissimo. Bueno, per noi il preferito era l'Italia, però, però, sì, è molto importante la finale di mattina e sicuro che sarà un buon torneo. È stato importante e bellissimo vedere alla fine del match gli abbracci e le strette di mano tra le due squadre che si rispettano, segno appunto che nel golf il fair play è davvero l'arma vincente di questo sport. È molto importante e lavoriamo per che sia fair play, hanno stato molto buoni, noi anche, sono amici, si vengono in tutti i tornei, bisogna essere buoni e fino al final. Siamo con Marcus Boerssson, capitano di Svedo. Dopo la vittoria dell'anno, Svedo è ancora in la finale, sono state felici? Sì, sono molto felici. E ora è il migbio matche con la Spagna con la gold medal. Sì. Sì, siamo pronti? Sì, aspettiamo di più tante matche, ma siamo preparati. È Svedo il migbio teame nel torneo? Sì, vediamo il morgeno, ma sì, spero. Una grande vittoria con la Germania. E ora vuoi la seconda gold medal? Sì, ovviamente.